Ciao a tutti, 3 a 0 contro il Monza e 6 punti archiviati prima della pausa nazionale, ma prima partiamo con la nostra sigla! La Talanta dai, spingi più forte che vuoi! A prendere il gioco e abbiamo fatto giocare soprattutto il Monza. Dopodiché siamo venuti abbastanza fuori, dopo un gol annullato a Scalvini per fuorigioco su una ribattuta del portiere, tra l'altro parlando di Di Gregorio, uno dei migliori giocatori del Monza in questa partita, il che è tutto dire, grandi parate da parte di questo portiere, visto i tiri fatti dall'Atalanta. Quindi dopo ribadiamo in gol da un calcio d'angolo, un tiro da parte di ieri, un bel gol all'angolino, passando da sinistro al destro per poi segnare il gol che ci porta in vantaggio e che cambia praticamente la partita. Ederson, che parleremo dopo, comunque non mi ha soddisfatto del tutto, soprattutto nel primo tempo. Quarto riguarda la squadra, secondo tempo, è venuta fuori decisamente, il Monza non si è più visto praticamente, non ha fatto praticamente niente perché nei primi 20 minuti si ha preso un po' le reddizioni del gioco, ma non ha poi concretizzato quello che gli abbiamo lasciato, soprattutto a centro campo. mi ha fatto fatica nel centro campo e perdevamo diversi palloni e quindi nella prima parte del gioco abbiamo subito un po' solamente il gioco del Monza. Grandi tiri del Monza non me ne ricordo, forse qualcosina, ma Musso devo dire che è abbastanza presente e comunque non impegnato e quindi, dicevo il secondo tempo, abbiamo segnato addirittura il 2-3-0, la doppietta di Scamacca, che poteva anche essere una tripletta, poiché sono stati annullati altri due gol, quello di Scamacca in fuorigioco, ma almeno i fuorigiocchi sono millimetrici, e poi il gol di Kuhn Miners, che invece è stato annullato per mani. Di solito quando si tocca, la palla tocca il proprio corpo e poi va a finire sulla mano, tra l'altro sì, non era scoordinata perché era, vedete, era così praticamente sul corpo, però gli arrivava dal petto e quindi, vabbè, comunque ci poteva stare la maggiore sul 3-0 e nessuno si è poi lamentato, anche perché non c'è stata proprio reazione da parte del Monza dopo il secondo e il terzo gol, sembravano abbastanza rassegnati alla supremazia dell'Atalanta. Partiamo quindi con Musso, appunto che ho detto non è stato impensierito abbastanza e quindi, molto meglio così, e quindi devo dire, comunque presente nei pochi impegni e quindi devo dire abbastanza sufficiente la sua prestazione. Buonissima la prestazione, secondo me, di difensori, addirittura spariti nel secondo tempo perché non venivano impegnati e quindi si è colasina, Scalvini, finalmente una buonissima partita e poi, dall'altra parte, anche Gym City. Buono, a parte la prima parte del centrocampo, con Maners che è sempre avanti un pochettino rispetto a Deron, Deron sta un po' dietro e con Maners sempre un po', probabilmente lo chiede Gasperini di cercare di rafforzare un po' anche la tre quarti della squadra, una tre quarti in cui c'è stato Ederson che io non ho visto prima del gol, anzi prima del gol c'è stato un tiro da parte di Ederson abbastanza buono, ma dopo il gol che lascia comunque anche solo quello che non aveva fatto prima, che però nel secondo tempo è venuto fuori bene, già nei primi due tiri, anche se un po' sbilenchi, diciamo, sono stati buonissimi da parte sua e è un buon secondo tempo, probabilmente anche abbiamo avuto un po' più di libertà rispetto al primo tempo, diciamo a senso unico un secondo tempo. secondo tempo Scamacca segna due bellissimi gol, uno di testa e l'altro bellissimo, un raso terra angolatissimo, veramente bello, devo dire sia il secondo o il terzo gol, mi sono piaciuti da parte di Scamacca, spero che continui così, a me non mi piacciono i tatuaggi, quindi non mi è simpaticissimo, però comunque è importante che segni per la nostra squadra e questi due gol, devo dire che ne lasciano il segno. Poi abbiamo davanti, abbiamo avuto poi De Chetelare, De Chetelare che mi è piaciuto anche questa volta. Terza partita secondo me è molto bella, secondo me De Chetelare è una pedina importante per l'Atalanta, visto gli impegni che ha, siamo contenti, siamo contenti di questo giocatore. Non lo so che problemi avesse con i rossoneri, con il Milan, e quindi nel senso che il giocatore comunque deve giocare bene, poi si fa segnare anche gli altri, non è importante poi che si segni lui. Io credo che ci siano problemi di che non segnava De Chetelare con il Milan, questo non deve essere il problema principale. Mi sembra, ecco, quel Zapata che c'era un anno e mezzo fa, quando abbiamo fatto un bellissimo girone d'andata e giochevamo la secondo anno in Champions League, in cui lui faceva tantissimo gioco, e poi non segnava lui, ma faceva segnare tutti gli altri, ma chi veramente portava avanti la palla era il gioco, portava proprio all'area per poi far segnare gli altri giocatori, era proprio Zapata. Quindi, ecco, questo mi ricorda un po' De Chetelare come gioco ed è un ruolo fondamentale per una squadra. Quindi, poi gli entrati, i subentrati, secondo me sono stati subentrati, visto il gol del 3-0, quindi un po' di prove per far giocare un po' anche gli altri. è entrato Muriel e Lukman, che non hanno inciso più di tanto, e Baccher, nelle fasce Baccher e Olm, Olm che è appena arrivato, e Baccher che deve far vedere un po' che cosa vale. Ha fatto due o tre tocchetti così da fuori classe, ma come mi dicevano anche che è troppo facile farli su 3-0, bisogna che venga fuori veramente quando serva in questo ruolo. Niente, buonissima partita, andate a vedere poi la live reaction, che riposterò appena possibile. E niente, adesso andiamo alla pausa, quindi salvo, poter romperò un attimo, perché appunto c'è la pausa nazionale, sarà impegnato solo Scalvini, poi qualcun altro forse, ecco, il nostro Gasperini diceva che comunque ben venga la pausa nazionale, per poter amalgamare un po' quelli che sono appena arrivati, salvo appunto chi gioca nella nazionale. Però la maggior parte dovrebbe rimanere a Bergamo, e quindi per poi appunto amalgamare un po' la squadra, farla diventare forte, e partire di nuovo travolta con un'Europa League in più. Partiremo con Rakov in casa, e quindi una partita non difficilissima, ma però bisogna vincerle tutte, neanche in Europa come nel campionato, non saranno, saranno tre partite difficili. Una buona domenica a tutti, e alla prossima, ricordatevi di mettere mi piace, mi raccomando, al video che è importantissimo per la logaritmo YouTube, lo ripeterò fino all'infinito, perché faccio questi video, anche perché vengono visti, e vengono anche commentati, mi raccomando commentate qua sotto, fatemi sapere cosa pensate, non fate parlare solo me, e infine, iscrivetevi al mio canale. Una buona notte e una buona domenica.